330 mila dollari, cioè 220 mila euro, tanto per un tartufo gigante da un chilo e mezzo. Li ha pagati un miliardario cinese collegato via satellite da Macau con l'asta che si è svolta oggi a Firenze. Il tartufo era stato trovato qualche giorno fa a Palaia, in provincia di Pisa.